se vuoi imparare a stare in equilibrio nelle condizioni di micro gravità come quelle che si ritrovano nello spazio il modo migliore è imparare a gestire bene i movimenti sott'acqua lo sa bene l'astronauta andreas mogensen ora nel pieno del suo training per la prossima avventura sulla stazione spaziale internazionale lo vediamo in questo video mentre supervisiona alcuni esercizi per il miglioramento dell'assetto assieme al nostro luca parmitano la gigantesca piscina dove si muovono il neutral lab un vasco all'interno del johnson space center di houston dove gli astronauti imparano a gestire sott'acqua l'attrezzatura necessaria per le passeggiate spaziali e a praticare i lavori di meccanica che poi replicheranno a bordo dell'isss spaziale internazionale